Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata da parte di vostri video giocatori maledetti Io sono LOL Io sono Gian E siamo qui per presentarvi I Cavalini dello Zodio Il secondo nome non ce lo ricordiamo quindi ce ne sbattiamo il cazzo Ma come no, la battaglia del santuario Hai ragione, è un genio Comunque adesso andremo, abbiamo finito la storia e abbiamo sbloccato tutti i personaggi Naturalmente noi siamo fighi Visto Eccola Quindi li abbiamo tutti, tutti, ne manca nessuno C'è Sagittario, si è Mio segno Vabbè, vai, tocca a te, scelgo Ok, io scelgo il leone, però sono Kanko, però il Kanko non mi piace Ok, tocca a me Sei un coglione, fai indietro Fatti start, coglione Ok, era colpa mia, ok Leone e Sagittario Sopra Sopra Eccolo Sagittario è fighi, guardate che armatura bella Che bello Ti fai più là No Grazie Tipo C I giocatori non possono colpirsi vicenda Eh sì, perché noi avevamo qualche tipo di problemi Esatto Che lui è un control toro, eh Sì, che lui cercava di ammazzare male Allora, questa serie si baserà Sul semplice, sulla semplice Cioè, nel senso faremo ogni puntata Una casa E' una casa Quindi Vai, ok Ok, qual'è che ci troviamo? Ah, perché è meglio Ah, per il sacro vero 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 Una freccia di Sagittarius Una freccia Sagittarius Una freccia Sagittarius No No L'ho paralizzata Mitraietta Ah, ho finito il Che sfighe Ho finito il cosmo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda come si vuole carico il cosmo Ah, voglia di spiegate Perché il Sagittarius Il Sagittarius Ricordati che il sfighe Quando ha le mani intorccate Non si intorccate Non si intorccate E' facile Perché non si intorccate Sempre si intorccate Aiuto Ah, cuo di Sagittarius Esca del Sagittarius Ok, aspettate Devo caricare Devo caricare Ok, ok Devo caricare Ok, fatto Ok, non siamo ancora morti Abbiamo dei personaggi Sì, anche perché Non aveva potenza Per nessuna Per la focaccia Un po' durata Il vostro Mitraietta Mitra Fulmine Il Sagittarius Bravo Doppia Grandissime Fai un sacro Variante Ma posso farlo anch'io Che fega Ma dici che è morto Posso farlo anch'io È parezzato lui È parezzato lui È parezzato Toro È un'idea Questa cosa Cazzo Adesso la devo caricare Finquanto uccisione Muore Paralizzato vai Non lo prendi Non lo prendi È parezzato Che cosa ne hai fatto Per il sacro E' sto cazzo in culo Prendilo Pichino di tuttana R1 Mi sto divertendo Anche lì A fare il sacro E' un sacro Valorizzato L'ho preso Ma non lo fa R1 Cerco non lo fa M*****o Sè nel cazzo Dai non vuoi ucciderlo così Uccidilo con l'attaccato Sì No Eh vabbè l'ho ucciso Con la mia mossa però Va bene Vabbè è durato poco però 2 minuti e 28 di litro E allora andiamo avanti Andiamo avanti Due case ragazzi Dai Vediamo quante riusciamo a farle In 10 minuti Esatto Vai su Finiamo sto cazzo del gioco Vai corre Corre Vai 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 Non ci piace un casino Non sto carichando in tocca a cuore C'erchiamo di andare con i culoni Tanto ci passa attraverso Chi cazzo è il micene? Micene No Lui è qui Freccia del sagittario Va cagato Freccia del sagittario Cazzo Freccia del sagittario Ma basta fare così Ma di sacro lei E' vero basta fare La mitraglietta del sagittario Questa è bastardo Guarda 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 Freccia del sagittario Menomai che il mio sacro è il sagittario Ma di sacro è il sagittario Ragazzi Guarda Oddio No 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 Scappa scappa Ecco Dobbiamo colpirlo Dove colpisco? Non riesco a colpirlo Cazzo Non andare in là Oh L'ho colpito E' il sagittario Questa è una freccia del sagittario E mi carico un po' Mi ha scelto Timotee Ma non è il micene Olle Quanto figo Sobitario ragazzi Abbiamo scelto La copia Ma sono fratelli Sì Abbiamo scelto i fratelli No Tu in realtà Non siamo Allora Sì Siamo fratelli Di me Sì Nessno E mi sagra No Mottetemi Muoro Bloccato Cazzo sto per chietta Scusa E? Oh Scusa E? No No Faccio la rossa Sta bloccando Mi procede Mi procede Mi procede Mi procede Mi procede Mi procede Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Cazzo è morto! R2, ne? Sì! TORNA IN VITA! NANETTI DEL CAZZO! Abbiamo marzo... Di nuovo! Eh, mi ha dato poca vita! Eh, lo so, è merda! RESISTI! Cazzo, no, di nuovo! Nascondi! Eh no, ti prende l'ospedale! Eh no, la fai tu! Merda, son morto! Ma cazzo! Valla a colpire! Eh, come cazzo faccio che c'è la gravità che ti riporta indietro? Cazzo, ci hanno ucciso! Ma poi c'era la visuale! Nooo... Facciamo ancora un tentativo, vai! Ve la facciamo vedere di nuovo! Vai! AAAAAAAH! Meno mai cos'è questa che sembrava fatta! Sì, niente, l'abbè, 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 l'abbè! Nooo... Freccia del Sagitario! Mi ha brevi... Stiglio di odio, scusate il cazzo! Sei piccoli da colpire! Che figa di mossa! AAAAAAAH! Beccaci, paralizzarlo per colpire quel sacro... Ounque... Beccati, sta freccia! Beccati, sta freccia! Beccati, sta freccia! Beccati! Beccati! C***a! 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 Scusate! Sacro Leo! Salva culo a tutti! PICCHIALO PICCHIALO! Non ci schiare così... C***a! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Per il sacro Leo! Per il sacro Leo! Beccati! 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 Per il sacro Leo! Per il sacro Leo! Per il sacro Leo! Io non posso entrare al palco! E' un sacro Leo! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Faccio UAAAAAAH! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Fulmine del Sagittario! AAAAAAAH! Sto caricando! Sto caricando! E' un sacro Leo! Ok... Pezzavamo che era il altro! Ho visto che faceva i fulmini! Ecco, lo abbiamo rete so che sono... Lo canto! No, mi trai S'ho terminato Posso farlo anch'io Guarda ce la faccio Ma te ne affanculo Si Ho ucciso Ma l'ho ucciso, non gli ho fatto la mossa Ho ucciso la mossa, non gli ho fatta Va bene, va bene Per questo video è tutto ragazzi Vogliamo spoilerarvi le prossime case Quindi Dopo il gemelli C'è il cancro Quindi dopo c'è il tuo segno Va bene ragazzi, per questo video è tutto Da Lollo, da Gian Al prossimo video, ciao